questo programma è presentato da bar vittoria strada statale 106 fondo vivo bova marina info 0965 76 40 91 pacecodes.com sviluppo portale e app central fotocormaci via nino bixio 11 melito portosalvo crystal coffee lounge bar corso garibaldi melito portosalvo telefono 0965 78 36 38 stazione di servizio kuwait strada statale 106 chilometro 13 più 500 pellaro regeneration point in via fondo vivo statale 106 bova marina info 0965 76 17 91 isa flowers di sabella della villa via nazionale 104 bova marina info 339 314 97 16 il chioschetto by tre corso umberto primo bova marina info 349 74 53 041 supermercato conad e fratelli russo via peripoli condofuri marina pizzeria number one via nna melito portosalvo info 347 65 12 502 radio studio 95 presenta sanremo live sanremo live tutto sul festival della canzone italiana in diretta dalla città dei fiori interviste curiosità news spettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno sanremo live cari telespettatori siamo qui davanti al teatro ariston perché sta per partire la famosa passarella red carpet sanremo 2017 a brem vedremo tutti gli artisti che si esibiranno durante questa kermesse musicale iniziamo a vedere qualcuno fiorella mannoia stanno per partire la passarella il red carpet saremo 2017 e noi abbiamo in esclusiva anche un po di di commenti poi anche chiara vedo alessio bernabè giusy ferreri poi raige raige si trova poi elodi in questo preciso istante presi di assalto ovviamente perché lele vediamo michele zarrillo gigi d'alessio samuel clementino e tra poi e poi c'è lui il grande albano sergione un po tutti quanti perché tra poco vedremo i 22 big sfilare la famosa passarella del festival di sanremo e noi qui radio studio 95 merito tv in esclusiva è qui sta iniziando siamo qui pronti per il red carpet festival di sanremo e ci troviamo che stanno passando ci troviamo tutti gli artisti marco masini ancora che stanno passando e e e e e e e e l'ho vista di tutti la schiena l'ho vista di tutti la schiena l'ho vista di tutti la schiena da dove fa? ora sempre dopo ricomincio Sergio, Sergio 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 forse la schiena di nuovo forse passano di nuovo dai e non ti dà perchè anche il fotografo non l'ho fatto a fare le foto così aspetta ma ci si mettono davanti questi si 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 uno alla volta chi è? chi c'è? Alessio! 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 abbiamo sentito i fan che urlano, hanno lanciato il mazzo di fiori, chissà chi l'aveva preso. Noi di MelitoTV non siamo riusciti, però qualche scatto lo abbiamo rubato. sta per arrivare anche Bianca Zey un'altra cantante abbastanza talentuosa da lei ci si aspetta tanto Bianca 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 Zey che sta in questo momento accogliendo le richieste dei fotografi e sta baciando il pubblico e adesso arriva Chiara anche lei attesissima Chiara e troviamo Chiara anche lei qui a farsi immortalare da tutti i fotografi e adesso arriva un maschietto arriva Clementino lo vediamo con il classico bouquet di fiori della città di Sanremo Vestito con il suo cappellino sta dando in questo momento un po' di fiori al pubblico che lo stanno acclamando tantissimo arriva Clementino e sta arrivando un'altra artista e sta arrivando un'altra artista sempre qui da Red Carpet Festival di Sanremo 2017 e arriva Elodie un'altra favorita qui al festival di Sanremo e sta arrivando un'altra artista qua qua Elodie qua Elodie Herman, adesso arriva Herman Metal ricordiamo l'anno scorso ha fatto una grande esibizione arriva anche lui un altro personaggio qui molto richiesto al festival di Sanremo una pastorella ricchissima di colori, di fioi, di trepudio la gente aspetta con ansia questo festival artisti tutti di un grande calibro di un grande livello e a breve arriverà anche Fabrizio Moro noi tipiamo per lui origini calabresi di Vibo Valencia Fabrizio 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 e adesso arriva un'altra grande, una big ed lei c'è veramente da dire poco, Fiorella Mannoia che noi abbiamo avuto già piacere di vedere Fiorella Mannoia, bellissima Fiorella 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 Nella categoria dei big parliamo di Francesco Gabbani che sta per arrivare, chissà se farà qualche balletto, qui al Red Carpet 2017 Festival di Sanremo e il balletto non è mancato, l'abbiamo detto e lui adesso lo rifà ovviamente, camaleontico, istrionico per lui, Gabbani si fa riconoscere, eccolo col balletto, Francesco che sfoggia una Miss impeccabile, rosso, camicia rosso fuoco e più pazzo che mai lo ritroviamo al festival, dovremmo aspettarci tutto da quest'artista. Continuano le riprese, arriva un napoletano doc, Gigi D'Alessio, anche lui amato tantissimo dal Pubblico Sanremese, un altro personaggio acclamato, come potete notare, Gigi, Gigi, non urlò più che va via la voce. E adesso arriva la Giussi Ferreri che negli ultimi mesi, quasi un annetto, ha sfoggiato una serie di singoli di tutto rispetto, chissà al festival di Sanremo cosa farà, noi crediamo tantissime in questa artista, piccolina ma veramente con una voce grintosa. Giussi Ferreri al festival di Sanremo Red Carpet 2017. Da notare anche il look di Giussi Ferreri, questo stile abbastanza grintoso, questa giacca scintillante con un pantalone di tutto rispetto, bella aggressiva con un rosetto rosso fuoco e lei si avvicina al pubblico, va verso i fotografi che la stanno aspettando, piccolina ma con una grande voce, una grande personalità. Giussi Ferreri alla 67esima edizione del festival della canzone italiana che inizierà 7 febbraio, Siro all'11. Questo Red Carpet vediamo i vari look, chi sceglie il lungo, chi una misa un po' più semplice, chi più sofisticata. Giussi Ferreri l'abbiamo vista aggressiva, molto elegante Elodie, molto rocchettara la Fiorella Mannoia e adesso aspettiamo il momento di... Dì! Vale! Saluta! E... Ehi! Di sei, ti sei! Arriva un altro bing della canzone italiana Marco Masini. Marco Masini con un bel fascio di fiori della... Marco!!! Continua la passarella, questo red carpet con i big del festival, stiamo aspettando che arriva qualcuno e mi pare Michele Bravi, esattamente lui, Michele Bravi. Notiamo una miss molto semplice per Michele Bravi, molto casual e adesso arriva Michele Zarrillo e cerchiamo di vedere un po' quello che è il suo look, sempre sobrio, camicia bianca vestito di nero, l'eleganza di Michele Zarrillo. Con un bel fascio di fiori si avvicina contento più che mai per questo festival, di lui una piccola curiosità, ogni mattina spremuta d'arancia perché le fa bene per le corde vocali. Michele Zarrillo che si avvicina a tutti i fotografi per essere anche lui immortalato. Adesso ci troviamo Nesli insieme ad Alice Papa, questo connubio interessante, un look sofisticato, per lui giacca bianca, le vestita di nero. Grintosissimi, belli più che mai, con un mazzo di fiori che intravedo delle orchidee, sì, orchidee per Alice Paba. E Nesli è veramente un galantuomo. Nesli! Nezli! Un'altra donna di Sanremo, Paola Turci, una miss tutta in bianco e nero, Paola Turci sfoggia un bellissimo sorriso, è il lancio dei fiori, bella più che mai e si avvicina ai fotografi per la classica fotografia e lei si avvicina anche ai suoi fan con qualche autografo, Paola Turci si dimostra probabilmente piena di voglia di ritornare a calcare l'ambiente musicale. Adesso è la volta, vediamo un po' se riusciamo a capire, troviamo Raige insieme a Giulia Luzzi, altro duo abbastanza seguito, Giulia Luzzi conosciamo, protagonista del musical Romè e Giulietta ama e cambia il mondo, nonché a tale quale show. Raige! 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 E adesso arriva un altro protagonista del festival, Samuel, ricordiamo ex di Subisonica o ancora farà parte di Subisonica? Questa sarà sicuramente una domanda che gli faremo in queste serate. Samuel, con il suo cappellino regala fiori dal suo bouquet. Anche lui si lascia fotografare da tutti i fotografi qui al festival e adesso arriva, attesissimo più che mai, vediamo un po' dalla pastorella chi arriva. Non riusciamo ancora a vedere nulla e arriva Sergione, lui amatissimo dal pubblico dei giovani ma non soltanto, riesce ad appassionare un po' tutti quanti. Quindi, Sergione che con la sua stazza difficilmente non riusciamo a intravedere. E sta per arrivare anche Sergio Silvestre. Silvestre, cappellino anche lui in misa, molto R&B. Sergio che gioca con i bambini, batte il 5, continua a fare autografi, il bacio a mano alla signorina, un galantuomo e chissà se vince da lui il festival di Sanremo. Sergio! 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 E dal red carpet veramente finisce qui almeno per questa sera e domani si ricomincia alla ricerca di tutti i big, e non soltanto perché aspettiamo le nuove proposte. Da Sanremo è tutto, alla prossima! Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutti uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro è stato bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo!